Sono infuriati e ci limitiamo solo a questo oggettivo i componenti del Comitato del Porto Tragolfo di Gela. Anche ieri sera in Consiglio Comunale, dove era presente una delegazione, non sono state date rassicurazioni in merito ai lavori che interesseranno la struttura portuale. Nessuna notizia certa per lo sblocco dei finanziamenti, così come deciso nella riunione del 28 giugno scorso a Palermo. Nulla di niente. Quello che è emesso ieri sera non si è capito poi molto, anche perché il sindaco è arrivato un po' tardi. Ieri sera non abbiamo capito nulla e come non abbiamo ancora capito nulla oggi, perché in realtà non ci stanno tenendo molto informati sui fatti. Anzi, vedo che c'è proprio un certo velo di oscurità per non far capire quello che stanno facendo in realtà. Il gruppo di lavoro non è più invitato ai tavoli né tecnici né le riunioni che ci saranno, che ci dovrebbero essere oggi e non sappiamo quando a Palermo. Non stiamo capendo neppure il motivo per cui il gruppo di lavoro non è più informato, non viene più aggiornato e quindi tenuto quasi all'oscuro direi. Forse c'è qualcosa che non quadra. Fare queste cose all'oscuro non li capiamo. Vogliamo capire. L'avvertenza Porto di Gela continua e sono previste azioni eclatanti. In una situazione del genere bisogna proprio farsi sentire e spero che ci faremo sentire, spero che non ci sia bisogno di farci sentire, che quindi oggi firmino come è stato già detto prima anche dall'onorevole Arancio che oggi dovevano firmare il protocollo d'indesa a Palermo. Spero che sia firmato, però ripeto non capisco come mai tutta questa oscurità in questa firma. Doveva essere una cosa alla luce del sole, quindi con tanta pubblicità anche direi, perché è una cosa abbastanza interessante. Quindi non capisco come mai tutto questo, diciamo, celare questa firma.